Buonasera mister, ben ritrovato, la Cremonese scende in campo dopo 17 giorni, insomma dopo parecchio tempo, è soddisfatto della risposta che i suoi ragazzi le hanno dato sul campo? Tanto buonasera a tutti, a corrente alternata. Cosa non le è piaciuto mister? No, non era semplice, l'avevo detto anche in settimana, riprendere dopo quasi 20 giorni e dal punto di vista fisico uno può lavorare bene, però probabilmente dal punto di vista psicologico abbiamo perso un po' il ritmo e queste partite un po' sui nervi si giocano e abbiamo fatto delle buone cose. Forse nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la partita prima, poi l'abbiamo tenuta in piedi, però insomma vincere qui non è semplice contro una squadra che ha valori, quindi alla fine bisogna essere soddisfatti e pensare alla prossima già. E certo, perché è vicinissima. Roberto? Sì mister, la buona notizia, la buona conferma direi è quella che ormai praticamente tutti i giocatori sono abili e arruolabili al netto di qualcuno che ancora deve recuperare. Oggi abbiamo visto Terranova partire al primo minuto, abbiamo visto Strizzolo, preferito a Ciofani che ha segnato il gol decisivo, Gustafsson che sta crescendo partita dopo partita, insomma la sensazione è che davvero siamo molto vicini all'aver coinvolto tutti nel progetto di squadra. Per forza bisogna, lo dicevo dal primo giorno, devo avere tutta la rosa a disposizione, voglio avere difficoltà a fare la formazione anche se da qui in avanti giocheremo ogni tre giorni per cui avremo bisogno di tutti, abbiamo bisogno delle energie anche di quelli che sono state margini per tutto questo tempo, perché probabilmente avranno un po' più di energia non solo fisica ma anche mentale. Quindi a parte Valeri che si riaggrega domani con noi è importante avere tutto il gruppo perché abbiamo un bel tour de force e giocare ogni tre giorni per tanto tempo alla fine logora e quindi lì dobbiamo essere bravi a gestire le risorse. Simone Buonasera mister, io ho una domanda a livello tattico, nel senso che la scelta di giocare a tre al centrocampo alla fine ha premiato, quindi aggiungere un mediano e togliere un fantasista, io le volevo chiedere in fase di preparazione del match, è stata una scelta più dettata dalla necessità di implementare la fase difensiva, quindi andare a bloccare il trequartista del Cosenza, oppure è stata una scelta più coraggiosa per andare a portare superiorità numerica al centrocampo rispetto al centrocampo a due del Cosenza? Ma noi abbiamo giocato, anche quando giochiamo 4-2-3-1, comunque dietro la punta ha giocato sempre un centrocampista, quindi tante volte dipende anche dal tipo di come vogliamo andare a prendere, come vogliamo andare a pressare la squadra avversaria. Questa è una squadra che se la lasciavi giocare ha delle dinamiche che ti crea delle difficoltà, noi comunque questo gliel'abbiamo tolto e avevo tensione di andare a prendere il più alto possibile senza fare troppe strade, senza lasciare poche interpretazioni ai miei giocatori, quindi era molto più semplice in questo senso dare delle indicazioni alla squadra. Questo ha funzionato sulla fase di pressing, perché poi anche il gol viene da una palla recuperata in mezzo al campo, però ripeto adesso abbiamo il doppio piano, 4-2-3-1, 4-3-3 in base al tipo di gara e al tipo di avversario e alle condizioni dell'organe. Mauro? Ecco, in questo senso, mister, col Pordenone non ci sarà Gustafsson che sarà assente per squalifica e che oggi è sembrato in crescita, forse una delle migliori prestazioni che ha fatto in questa stagione. Sì, ad Ascoli non mi era piaciuto, ci siamo parlati chiaro, ha avuto grandi risposte sul campo e 15 giorni ha lavorato molto molto bene e oggi ha ottenuto un raccorto sul campo con una grande prestazione, quindi sono contento perché è un giocatore che effettivamente è stato un po' fuori e ci ha dato poco, però sono convinto che può dare ancora di più perché ha tecnica e fisicità. Mister, so che lei non guarda la classifica, però la prossima gara è quella con il Pordenone e abbiamo bisogno insomma di chiudere il discorso salvezza il prima possibile. Come vede il prossimo match da questo punto di vista? Può essere davvero fondamentale? Possiamo chiudere il discorso salvezza? O è ancora troppo presto? Ancora lungo, il campionato è lungo perché sì, è vero, sono sei partite, sette partite, qualcuno in più, una qualche squadra, però noi dobbiamo pensare alla prossima e giocare per vincere e stop. Poi i calcoli, le lascio a voi, le considerazioni lascio a voi, che insomma noi dobbiamo concentrarci sul campo, pensare a giocare la prossima partita col massimo dell'impegno e giocare per vincere. Non ci sono partite semplici, partite più difficili, ci sono delle partite che vanno giocate e vanno giocate al massimo della condizione. Grazie mister, tanti auguri di buona Pasquetta a lei e a tutta la squadra e complimenti ancora. Ciao, grazie. A presto, grazie mister. Poi, ciao.